ciao a tutti oggi prepareremo la ricotta il tempo di preparazione della ricetta e di 75 minuti circa gli ingredienti sono latte intero fresco sale e aceto di mele iniziamo a preparare la ricetta mettiamo il latte nel boccale aggiungiamo il sale e andiamo a cuocere per 15 minuti a 100 gradi velocità a 6 adesso aggiungiamo l'aceto aggiungiamo il bimbi per 10 secondi a velocità a 7 adesso lasciamo riposare il composto per almeno un'ora all'interno del boccale una ciotola con l'aiuto di alcuni pressini salva freschezza per delle conserve creiamo un ponticello per poter mettere il nostro cestello andiamo ad aprire il boccale e andiamo a filtrare per una volta la ricotta all'interno del nostro sostegno dopodiché andiamo a posizionare il nostro cestello all'interno del boccale e facciamo scolare ancora la nostra ricotta adesso andiamo a mettere in un contenitore per ricotta la nostra ricotta ricotta bimbi grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti